Un'analisi a 360 gradi delle questioni internazionali più calde, soprattutto sul fronte del Mediterraneo e del Medio Oriente. Questi temi all'ordine del giorno dell'incontro a Palazzo Chigi, durato circa un'ora e un quarto, tra il presidente del Consiglio Enrico Letta e il segretario di Stato statunitense John Kerry, presente anche il ministro degli esteri Emma Bonino. Per quanto riguarda la Libia, è stato confermato l'impegno ad avviare la formazione delle forze di sicurezza libiche. Sono stati poi approfonditi gli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, anche alla luce di quanto emerso dall'incontro di ieri sera tra Letta e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Si è poi parlato di Siria nella prospettiva della convocazione di una conferenza a Ginevra II, di Afghanistan, con un'analisi del processo elettorale e della fase che seguirà la conclusione della missione ISAF, di Egitto e di Iran. Letta ha infine ringraziato Kerry per l'apertura del bando per la partecipazione degli USA a Expo 2015. A proposito del DataGate, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il governo ha in particolare posto la necessità di verificare la veridicità delle indiscrezioni di questi giorni circa eventuali attività di violazione della privacy. Kerry ha garantito un atteggiamento cooperativo, spiegando che l'intera questione è posta dall'amministrazione statunitense sotto riesame, tecnicamente under review. Il nostro obiettivo, ha detto Kerry, secondo fonti dell'ambasciata americana a Roma, è di trovare il giusto equilibrio tra la protezione della sicurezza e la privacy dei nostri cittadini. Questo lavoro di ricerca di equilibrio, hanno aggiunto le stesse fonti, proseguirà come proseguiranno le nostre strette consultazioni con i nostri amici, compresa l'Italia.